Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili per lavori ci sono due chilometri di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna, un chilometro di coda in direzione mare tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina. Sulla A12 per lavori ci sono code a tratti in direzione Genova tra Pisa Centro e il Bivio per la 11. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 398 via Valdicornia all'altezza del chilometro 11 e 500 restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!